Ma buon dia a tutti amici di doppia frizione, oggi mi faccio un regalone gigantesco Sto per andare giù a Castelletto di Branduzzo a provare delle auto da rally, quindi puttaneva sono hypato al massimo E niente, ci vediamo giù, vado giù con altri due miei amici e vi lascio il video Abbiamo finito l'ABS mi chiedeva a pietarlo, abbiamo finito il video, secondo te come si ferma? Non so, insomma, abbiamo girato in 42 con il 206 a K10, veramente, 42 giravate, 42 qua, ah col corsi, cosa? Eh, calcolate, il record mi sembra sia 32 qualcosa di un sopso, in 106 Comunque oggi mi sono fatto un regalo di Natale e girerò con un Delta e un Suparino Delta Gruppo A, Bara N, non si sa, cioè è un mix e un Suparino tra questi che non so ancora quale Del Piaver Heavy Team e niente, stanno tirando fuori adesso un R5 Stanno ripetando fuori adesso un Gileadino Questi qui sono i coglioni con cui sono sceso oggi No, l'abbiamo trovato qua, sto coglione, non si spostava Sto coglione, sto coglione Ma che bevi? Ma che bevi, ma che bevi iride Ma che bevi iride No, ti sei, e niente C'è un cane Ciao Cari, Cari devi girarle bene e poi tenere giù questa teni giù F*** yeah E poi me la lascio. Bravo, hai messo la marge di due, hai visto? Hai messo la marge di due, hai staccato a due marge. E poi me la continuiamo alla cipolla. Bravo! Bravissimo! Bravo! E la chiude. Ora la facciamo da lì. Bravo, mi piace, bravo! Qui abbiamo l'ultimo giro. Ciao. Ciao! Mmm! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Muoviti. Sembra mia nonna quando va a fare la spesa al parcheggio del Carrefour. Bravo, doppio minchione. Buongiorno. 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 Grazie. La GoPro, ricordati. È fighissima. Quali sono le prime impressioni? Prima volta in un'auto da rally, mezza rally e troppo bello. Top. Tieni bracco, i tuoi guanti del 900. Buongiorno. 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 Tuoi attarcavissima. Buongiorno. Grazie a tutti. 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 Sono arrivato un po' lungo e mi ha ficcato un freno a mano e ho tirato giù un traverso devastante. Allora, questo è il video per l'Elia del futuro che sta arrivando adesso. È ritardato. La videocamera era nella mia macchina, non nella sua. Vedi? Guardalo. Guardalo. Dov'è la videocamera? Dov'è la videocamera? Dov'è? Guardalo. 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 Guardalo.